Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV l'informazione locale Delusione d'amore per un cinquantenne di Fossombrone che tenta il suicidio ma viene salvato dai carabinieri I lavori delle nuove scogliere andranno avanti fino alla fine di maggio Visita dell'assessore regionale Schapichetti A Cartoceto giornata di votazioni per le proloquo della provincia di Pesaro Urbino Tra poco l'elezione del nuovo presidente I riciclati speciali del San Costanzo Show su Fanno TV Questa sera l'ultima puntata del programma dedicato alla raccolta differenziata Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia Con Marco Ferri Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia Stavano insieme da cinque anni Poi lei ha deciso di mollarlo Lui non ha retto e ha tentato il suicidio Per fortuna è stato salvato dai carabinieri Sembrava un falso allarme e invece era tutto vero Un cinquantenne ha tentato il suicidio per amore per la seconda volta Ma è stato salvato in extremis dai carabinieri L'allarme è scattato da una telefonata al 118 Dove l'interlocutore con voce fioco ha farfugliato Dell'esistenza di un impiccato a Fossombrone Ma per le poche indicazioni ricevute I sanitari hanno avvisato al 112 E i militari hanno subito avviato un'attività di indagine Ricordavano infatti di una giovane donna che di recente Si era recata in caserma Lamentando molestie da parte del suo ex Aveva raccontato di aver conosciuto Un uomo molto più grande di lei Con il quale aveva convissuto Per più di cinque anni ma la relazione Si era interrotta a causa Dei continui tradimenti di lui L'uomo non rassegnato Aveva iniziato a tempestare la donna di telefonate Messaggi e post nei social network Dal contenuto delirante Il cinquantenne inoltre era già conosciuto Dai carabinieri Perché dopo essersi separato dalla prima moglie Anche in quel caso per i continui tradimenti di lui Prima aveva molestato telefonicamente la ex E poi aveva tentato il suicidio Impeccandosi con la cintura dell'accappatoio Messe insieme le informazioni I carabinieri sono corsi verso la casa dell'uomo Al campanello Non rispondeva nessuno E la porta era sbarrata Ma i militari hanno deciso di aprirla spallate Giunti all'interno Lo hanno trovato impiccato nella camera da letto Con la cintura di un accappatoio Ma lui era ancora vivo Immediatamente un militare lo ha sollevato di peso Mentre l'altro salito sulla scala Ha sciolto il nodo dal collo del cinquantenne Una volta liberato Non cosciente E' stato effettuato un massaggio cardiaco Nel tentativo di rianimarlo Dopo le prime cure del personale sanitario Giunto sul posto E' stato trasportato al pronto soccorso Dell'ospedale di Urbino Per poi essere ricoverato Nel reparto di psichiatria Al Santa Croce di Fano Per i militari Resta la gioia Di aver salvato la vita Una persona Emozione Che nessuna brillante operazione di servizio Potrà mai dare Adesso parliamo dell'incendio Alla ditta di cosmetici di Senigallia L'incendio è stato domato Lo rende noto il comune Sottolineando che non ci sono pericoli Legati al fumo disperso nell'aria Cadono quindi alcune misure precauzionali Per la reazione dei locali Come l'apertura delle finestre O l'utilizzo dei condizionatori Confermato invece il divieto Alla cittadinanza di consumare verdure E di utilizzare animali da cortile A fine alimentare Nel raggio di 5 km dal punto dell'incendio I tempi tecnici delle analisi dell'ARPAM Necessitano almeno di 10 giorni Per scongiurare ogni problema Per la salute pubblica Legata al consumo di alimenti prodotti Nella zona interessata Al momento non ci sono registrate Non ci sono registrate richieste di assistenza Né sul centralino del 118 Né al pronto soccorso O ai medici di base La zona lo ricordiamo È il cesano di Senigallia La vita non è una magia Né una fortuna È una conquista di sé Con la fatica e il sudore della fronte Con queste parole il vescovo Della diocesi di Fano Fossombrone Caglipergola Armando Trasarti Parla della piaga del gioco d'azzardo Argomento che verrà trattato a Fano In un convegno che si terrà Venerdì prossimo alle 6 del pomeriggio Nella sala Don Lorenzo Milani In via Prima Strada Bellocchi Ho accettato subito di partecipare all'evento Sottolinea il vescovo Perché quella del gioco Sta diventando una emergenza sociale Che colpisce anche tanti fanesi Sempre più persone Spiega Trasarti Vengono da me in cerca d'aiuto Dall'anziano che in due giorni Si gioca la pensione Al padre di famiglia Che in un mese si è mangiato Tutti i risparmi di una vita Sono tanti anche i giovani Che saltano la scuola E si rinchiudono In queste nuove sale scommesse E adesso parliamo Delle scogliere a Sassonia Sud Perché questa mattina L'assessore regionale Angelo Sciapichetti È venuto a Fano Per vedere l'andamento dei lavori Si è conclusa con una uscita A bordo di una motovedetta La mattinata dell'assessore regionale Angelo Sciapichetti Venuto a Sassonia di Fano Per verificare di persona L'andamento dei lavori delle scogliere L'intervento è iniziato un mese fa È finanziato dal comune di Fano Per 900 mila euro E per 3 milioni Dalla regione Marche Che a base d'asta Hanno portato ad un ribasso Di circa 540 mila euro Cifra che potrebbe essere riutilizzata Per completare la rifioritura Di tre setti di scogliere All'altezza dell'ex pista di go-kart Di progetti e novità Se ne è parlato durante una conferenza stampa La presenza dell'assessore all'ambiente e ai trasporti Che ha descritto sia la giunta seri Che quella ceriscioli Come esempi di amministrazione virtuosa Gli impegni presi Ha detto Sciapichetti Sono stati mantenuti Eppure nei tempi prefissati Ha fatto notare inoltre La grande civiltà e la serietà Di chi nel tempo ha subito danni ingenti A causa delle forti mareggiate La compostezza, la serietà, l'impegno Con cui gli operatori commerciali fanesi E anche gli abitanti Hanno affrontato questo tema È un esempio un po' per tutti i marchigiani Perché l'hanno fatto con grande compostezza Con grande serietà e collaborazione Per troppo tempo ha detto Sciapichetti non c'è stata la dovuta manutenzione E quindi oggi bisogna recuperare anni di abbandono E lo si fa In un momento difficile In cui ci sono poche risorse economiche A suo fianco oggi anche il consigliere regionale Minardi Che si è adoperato in questi mesi Per accelerare i tempi burocratici Il caso emblematico è che Il progetto presentato in Regione Ha avuto il decreto di autorizzazione In meno di 24 ore L'ho personalmente portato io al sindaco Il fatto di aver consentito Un mese in più di lavori E quindi di accelerare i tempi Sono il segno e il significato Che c'è questa forte collaborazione Come la presenza oggi qui a Fano Dell'assessore regionale Perché rendersi conto anche visivamente Dei problemi Aiuta a risolvere tutte le questioni Che sono sul tavolo Sicuramente la difesa della costa Di Sassonia Sud Era uno dei temi importanti Che insieme Regione e Comune Abbiamo affrontato E si stanno risolvendo Soddisfatto anche il sindaco Seri Che in questi giorni ha firmato un'ordinanza Carattere cautelativo Di divieto di bagnazione Nell'area interessata dai lavori Fino al prossimo 31 maggio Una domenica pomeriggio sotto la pioggia Ho incontrato i residenti Non ero ancora sindaco Impegnandomi che se lo fossi diventato Uno dei primi impegni sarebbe stato questo Effettivamente io mi sono insediato il 12 giugno Il 13 giugno ero già in Regione Per parlare di dragaggio del porto E della difesa della costa E oggi è una soddisfazione A distanza di meno di due anni Essere qua con questi scogli alle mie spalle Anche perché giustamente i cittadini In quell'incontro gli dissero Come sempre ci raccontate questa cosa E c'era una certa diffidenza Però ecco la cosa importante Che qua si sta realizzando Un intervento straordinario Che porterà una risposta Spero definitiva per questa realtà Dove si parla di difesa della costa Dove si parla di qualità delle acque Perché con lo scolmatore Si tuteleranno anche le acque E riqualificazione di Viale Ruggeri E della pista dell'ExploCart E sempre a carattere cautelativo Hai messo un divieto di bagnazione Nella zona interessante Sì per una messa in sicurezza In questo mese stanno lavorando È normale che non si deve andare vicino È come quando c'è un cantiere Che si realizza una casa Per la bagnazione non ci sono problemi Perché a fine maggio interromperanno i lavori Gli scogli di fronte allo scolmatore Non ci saranno Verranno messi dopo settembre Quindi rimarrà la situazione Come lo scorso anno Per quello che riguarda la tutela delle acque Quindi il divieto di bagnazione In questi 30 giorni È un via cautelativo Per consentire i lavori Sono iniziati in questi giorni Da parte della società Autostrade Per l'Italia Le operazioni preliminari Alla realizzazione delle opere Compensative della 14 Nel Comune di Fano Infatti dopo un lungo iter Iniziato nel luglio 2006 Si è giunti all'avvio degli espropri Necessari per realizzare le opere Che probabilmente saranno concluse Entro il 2018 L'intervento porterà Alla costruzione di circa 7 km di strade E adesso ci colleghiamo con Cartoceto Dove i nove consiglieri Del Comitato Provinciale delle Proloco Hanno appena eletto il nuovo presidente Almeno è così Lino Balestra Buonasera Marco Buonasera cari spettatori Siamo nella sala del Consiglio Comunale Di Cartoceto Dove pochi minuti fa Si è insediato il nuovo direttivo Alla cui presidenza c'è Damiano Bartocetti Vicepresidente Tien Lucarelli Proveniente dalla Proloco di Fano Silvestroni Laura la segretaria E Latini Nazareno il tesoiere Proveniente dalla Proloco di Tavoleto Allora un insediamento fresco Quindi impressioni a pochi minuti Dalla nuova carica Sicuramente una grande emozione Poi essere qui a Cartoceto Nella città dell'Oglio Della DOP E soprattutto essere nella città di Giuliano Grossi Questo mi emoziona Prendere il suo testimone È una bella responsabilità Che cercheremo sicuramente Di portare avanti con passione E con impegno Però insomma Una bella Una forte emozione Ecco Prossimi passi A poche ore dall'insediamento Ai prossimi passi Saranno quelli di lavorare a testa bassa Sicuramente ci sarà un impegno Di tutto il Consiglio Gireremo Andremo in tutte le Proloco Poi sicuramente Nei prossimi giorni Insomma diremo un po' di più Sul programma Degli eventi Delle cose da fare Bene La sede dell'UMPI provinciale È rimasta qui a Cartoceto Nella sede del Comune Quindi Matteo Andreoni Assessore della Cultura Siete contenti anche di questo? Sì Siamo particolarmente soddisfatti Che grazie al lavoro svolto Sia stata mantenuta a Cartoceto La sede dell'UMPI provinciale Anche con un legame storico Il Presidente giustamente citava Giuliano Grossi Che molto si è speso per l'UMPI Allo stesso tempo Credo che sia stato riconosciuto Il ruolo di Cartoceto Come posizione strategica E baricentrica Tra il turismo balneare E il turismo dell'entroterra Quindi Non mi rimane che fare i complimenti Al nuovo direttivo Al nuovo Presidente Al nuovo Vice Presidente E lancio proprio questa sfida Di fare Una strategia di rete Tra il turismo balneare E il turismo dell'entroterra Bene Questi sono i passi futuri Queste sono le prospettive Dal Comune di Cartoceto è tutto Restituisco la linea Al telegiornale Occhio alla notizia A voi Bene, grazie Vino Balestra Domani sera torna il nuovo programma Missione Salute Il programma di Fano TV Che si occupa di sanità I medici Dell'azienda sanitaria Marche Nord Saranno qui Nei nostri studi Per rispondere in diretta Alle vostre domande Allora Sentiamo Nel prossimo servizio Qual è l'argomento E chi sono Quali sono gli ospiti Della puntata Nel quarto appuntamento Con Missione Salute Marche Nord Istruzioni per l'uso Parleremo Delle nuove frontiere Della neurochirurgia Che attraverso Sofisticati strumenti Ad alta tecnologia Come il neuronavigatore Il microscopio Ad alta magnificenza Ed il neuroendoscopio Consentono Ai medici Dell'equip del dottor Morabito Responsabile Dell'unità operativa Di neurochirurgia Del San Salvatore Di praticare In sicurezza E con accuratezza Interventi chirurgici Ad alta precisione Proveremo a fare Un riassunto Di tutta l'attività Che svolge La neurochirurgia Dopo dieci anni Di attività In cui si è sviluppata In tutte le direzioni Da sistema nervoso Periferico Ad arrachide Fino alla patologia Del sistema nervoso Centrale Anche con una complessità Particolarmente elevata Ma soprattutto L'utilizzo Dei monitoraggi Intraoperatori Sia per quanto riguarda L'attività corticale Che per quanto riguarda L'attività del midollo Perché sempre di più La neurochirurgia Si sta specializzando In un buon risultato Funzionale Anche negli interventi Di particolare impegno Di esportazione Di tumori Anche in zone Che prima Non si potevano Operare Per la loro Attività funzionale Come sempre Nella seconda Parte della puntata Voi telespettatori Potrete rivolgere Domande ed osservazioni Direttamente ai medici Ospiti in studio Attraverso le telefonate Chiamando Fano TV Allo 0721 861433 Dalle 20.45 in poi Dopo il Tg Occhio alla notizia L'Asur Marche E la società Di mutua assistenza Hanno sottoscritto Una convenzione La prima In Italia Che permette Ai soci di Banca Suasa Di accedere A delle prestazioni Sanitarie A pagamento Con una riduzione Del 20% Rispetto alle Normali tariffe Applicate Abbattere le liste D'attesa E promuovere La prevenzione E la cura Attraverso prestazioni Specialistiche In Tramenia Con un tarifario Concordato Con l'Asur Marche Per indagini Diagnostiche A pagamento Con uno sconto Del 20% Rispetto al costo Corrente Questi i termini Della convenzione Prima ed unica In Italia Al momento Di cui usufruiranno I sottoscrittori Di Suasa Vita La cassa mutua Della banca di Suasa Grazie all'accordo Stipulato Tra il Comipa Il consorzio Tra mutue E l'Asur Marche Questa iniziativa Di cui precedentemente Hanno parlato molto bene Va proprio in questa direzione Cioè aiutare Dare un servizio Tramite questa cassa mutua Che chi ha passione Di storia come me È una vecchia società Di mutuo soccorso Cioè a Fano C'erano quelli Dei pescatori C'erano dei cattolici Che praticamente Si mettevano insieme Per aiutarci Ritorna anche nel 2016 È lo spirito cooperativo Che in questi momenti Di difficoltà Si cerca di Mettere in piede Delle iniziative Con lo scopo Di aiutare Soprattutto quelli Che sono in difficoltà E credimi Che quelli che sono In difficoltà Sono veramente tanti Per noi questo è Un progetto pilota Che serve comunque A introdurre strumenti Più flessibili Proprio per rispondere All'esigenza Dei cittadini Si inserisce Perfettamente Con un'azione Importante Che è voluta Dalla Presidenza E dalla Giunta Regionale Sulla lista D'attesa Al 20% Medio di sconto Rispetto alla normale Tariffa Inoltre La Suasa Vita Praticherà Alla presentazione Della notula Un ulteriore sconto A titolo di rimborso Facendo così Arrivare Il risparmio netto Sul costo Della prestazione Al 38% Non poca cosa Se pensiamo Che oltre a scegliere La struttura Dove effettuare La visita Gli utenti Non devono attendere I lunghi tempi D'attesa Ai quali Il CUP Sottende A tutto vantaggio Anche di operazioni Di prevenzione E screening Dove tempi lunghi E costi Rappresentano Un disincentivo A tutto discapito Della salute pubblica Oltre a queste prestazioni Che vanno Nel campo Della diagnostica Risonanza magnetica E TAC Cardiovascolare Ecoimmagine E Ecodoppler E quindi anche Nella cardiologia Prevede anche Campagne di prevenzione Noi come Suasa Vita Abbiamo già iniziato L'iter burocratico E dentro il mese di maggio Inizieremo Una campagna Di screening Del melanoma Con il poliambulatorio Di Senigaglia In quanto Nella regione Marche Purtroppo Le indagini statistiche Ci dicono Che è in aumento Il melanoma Quindi Tutti i nostri soci Potranno usufruire A un prezzo convenzionato Di questo screening Che inizierà da maggio Per tutti i nostri 1500 soci E' stata inaugurata Nella chiesa Di Santa Maria del Suffragio A Fano Una mostra fotografica Curata dal professor Fulvio Palma Con l'obiettivo Di celebrare Il sacrificio Dei soldati alleati Durante la liberazione Dell'Italia E dell'Europa L'iniziativa Che è il patrocinio Dell'Università Degli Studi di Urbino Ha preso il via Venerdì scorso Con un convegno A cura Del professor Antonio De Simone Tra poco Dopo il telegiornale Andrà in onda L'ultima puntata Dei riciclati speciali Con i comici Del San Costanzo Show L'informazione finisce qui Grazie per averci seguito A domani A domani A vera A domani A domani